Alla ricerca di quiete e meditazione, è il motivo che ha spinto monaci ed eremiti sin dal nono secolo a frequentare l'abbazia di San Benedetto sul monte Subasio, a pochi chilometri da Assisi. Restaurata a più riprese dopo il terribile terremoto che ha colpito l'Italia centrale nel 1997, oggi è gestita da monache benedettine che ne hanno affidato la custodia al suo unico abitante. Ci ho pensato un po', perché non era una scelta scontata, ma quel desiderio mi ha spinto a venire qui ed è quello che dovrebbe spingere chiunque voglia venire qui e trascorrere qui qualche giorno con me. Il desiderio di pace e vita contemplativa è ciò che muove chiunque, credente o no, senta il bisogno di isolarsi e di trascorrere alcuni giorni nelle stanze dell'abbazia in compagnia del suo custode. Composto così non è scontato, quindi deve essere un po' preservato, la pace e il silenzio che si respira qui deve essere mantenuto. Io ho avuto molte richieste negli ultimi giorni di gente che vuole proprio assaporare questo. Vivere nella pace e nel silenzio. Alberto ne ha fatto uno stile di vita. Per altri è la possibilità di fuggire per qualche giorno dal caos e dal rumore della vita quotidiana e magari di ritrovare un po' se stessi. Alberto vive nell'abbazia da metà marzo in compagnia di due fedeli amici, Birba e Macchia, che insieme a lui introducono i visitatori allo spirito del luogo. Penso che sia fondamentale qui accogliere soprattutto chi vuole venire a vedere questo luogo, questa architettura straordinaria, ma anche chi vuole venire a gustare un po' il silenzio. Il silenzio e la felicità dei gesti semplici. Luca Palamara per Euronews, Abbazia di San Benedetto, Assisi.